Se la Costituzione è anticostituzionale, pure l'aria che respiri è aria antiossigenale, allora tu devi avere sempre il volto coperto, lo dice l'esperto, ma la Costituzione no. Se la Costituzione è anticostituzionale, pure la tua libertà è libertà antiliberale, allora tu non puoi andare a passeggiare all'aperto, lo dice l'esperto, ma la Costituzione no. E' solo un consiglio del Presidente del Consiglio, lo consiglia pure Zia, consiglia che ammazzatele si piglia col marito e la famiglia, esaurite e chiusa in casa, davanti alla TV, non c'ha fa chiù. DPCM, DDPCM, se la Costituzione è anticostituzionale, pure la televisione è antitelevisionale, allora tu non puoi credere al dottore, all'esperto, ma burloni Roberto, perché in televisione sta. Se la Costituzione è anticostituzionale, pure la magistratura è antimagistraturale, allora tu puoi sperare di avere ragione, e non vai in prigione, perché ragione non ci sta. Si fanno le leggi sopra la Costituzione, la custodia cautelare, e non si può così applicare il giudice e la libertà, nessuno può toccare solo in guerra. Ma allora siamo in guerra, e quel che è stato è stato... DPCM, DDPCM. DPCM. 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 DPCM.